Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie di stasera e di domani. Intanto prosegue il campionato mondiale di Palavolo al Palalpitur e chiusa via Filadelfia dalle 14 di oggi sino a notte inoltrata, sarà così sino a domenica con la deviazione delle linee 17 e 17 barrato del servizio pubblico. Sino a domenica all'ingotto fiere manualmente è in corso la cerimonia di inaugurazione, la riapertura ufficiale della Cappella della Sindone in piazza San Giovanni. Sino a domenica Torino spiritualità, questa notte come di consueto la chiusura dei sottopassi per operazioni di pulizia meccanizzata, 23.30, 1.30 chiude il sottopasso Repubblico Portapalazzo, 2.30, 4.30 chiuderà il sottopasso Lanza, ricorso Massimo d'Azeglio. È in corso anche sino alle ore 23 un intervento di contenimento fauna selvatica in zona strada Mongreno 114 e zona Dimitrofe. Veniamo alle notizie di domani, venerdì 28 settembre. Divieto di transito in via Marchese Visconti, tra via Stradella e via Boccardo per lavori con autogru. Continua ad essere chiusa la passerella olimpica a lavori edili in corso Cosenza 40. Non ci sono al momento altre notizie, buona serata, buon viaggio e a domani.